E' un'incognita il futuro di oltre 400 dipendenti, 1500 operatori nell'indotto. Rischia alla chiusura la SIARC, la storica azienda di ristorazione fondata dal compianto presidente del Catanzaro, Pino Albano, arrivato giovanissimo da tanto, per realizzare il sogno di fare imprese in Calabria. Non solo la pandemia, l'aumento dei prezzi di energia e gas, il costo delle materie prime, a determinare una forte crisi di liquidità, gli sviluppi di un contenzioso con il comune di Catanzaro. L'azienda deve pagare gli interessi su un vecchio debito risalente agli anni 80, così la SOGET ha effettuato i pignoramenti verso i pagamenti di sei committenti. Con tutto ciò che ne consegue, con difficoltà pertanto nella regolare esecuzione del servizio che stiamo in ogni caso cercando di garantire, però con l'impossibilità di essere regolari con gli stipendi, tutto ciò che ne consegue da una carenza di liquidità che è conseguente a tutto questo. Piuttosto che andare a finire nelle mani degli usugari, preferisco fare qualche altra cosa che non vorrei fare e non vorrò fare. Una cartella esattoriale di 600 mila euro che l'azienda vorrebbe rateizzare, dando in garanzia ai mobili per oltre 2 milioni, ma l'amministrazione comunale ha dato parere negativo una posizione inspiegabile, secondo i legali dell'azienda, che mette a rischio un'importante realtà produttiva del territorio. Quando viene richiesto di poter fare un pagamento rateizzato, quando si offre una garanzia notarile di ipoteca volontaria su ben due immobili, uno oppure un'altra scelta, come unica condizione ponendo quella che venissero eliminati questi pignoramenti che impediscono, come ha detto l'Avvocato Albano, di poter accedere a qualsiasi tipo di liquidità. Quindi questo impedisce che la SIARC possa pagare la frutta, la verdura, la carne, qualsiasi cosa e impedisce di poter pagare le persone che cucinano, le persone che lavorano in questa realtà che ha creato Don Pino Albano, una delle industrie più importanti della catena alimentare che ci sono in Calabria. Voi la volete fare chiudere, perché? Che interessi ci sono dietro? Ce ne sono? Cos'è antipatia personale, interessi economici? Spero di non perderlo, spero che le cose sia giusti, perché comunque è un'azienda che mi sono trovata bene, da un anno e mezzo mi trovo benissimo, quindi spero in questo, poi si vedrà.